non so se come è capitato a me anche voi vi siate trovati qualche volta a pregare in un gruppo carismatico ricordo proprio la primissima esperienza decisamente disastrosa ero ad erba con il nostro gruppo di preghiera e mi sono ritrovata in mezzo ad un numero considerevole di persone che si agitava in canti e movimenti del corpo fino ad arrivare ad emettere strani suoni con la voce in un ordine più o meno armonico e non so se come me abbiate pensato in quei frangenti di essere fuori luogo in mezzo a dei pazzi scatenati e non capire soprattutto cosa stesse succedendo o più avanti nel tempo quando finalmente sono arrivata a capire che in realtà quelle persone erano semplicemente facenti parte del rinnovamento dello spirito movimento cattolico e che quell'emissione di suoni di cui non capivo il significato era in realtà semplicemente un dono dello spirito santo non che avessi fatto una grande esperienza in merito al massimo avevo partecipato a due o tre di queste preghiere ma il mio imbarazzo in quei casi comunque rimaneva per diversi motivi primo perché nessuno mi spiegava ciò che era quel dono si cantava e basta secondo perché quando provavo a balbettare qualcosa mi sembrava di essere un po stupida ad un certo punto cosa è successo mi ero francamente arresa al fatto che potessero essere gli altri ad avere quel dono semplicemente io non ce l'avevo ma la misericordia infinita di dio è scesa su questa mente velata di ignoranza e mi ha dato luce proprio all'inizio di questo 2023 non che non avessi appunto compreso ma non sapevo in profondità cosa realmente fosse questo dono e mentre stavo preparando il pellegrinaggio estivo per me giugori il signore mi è venuto in aiuto così ciò che ho imparato e condiviso poi con il gruppo di pellegrini che ho accompagnato dalla regina della pace lo voglio condividere oggi con voi con questo video così ora desidero accompagnarvi in un breve percorso una breve esperienza nello spirito santo che ci servirà per vivere bene ogni momento di preghiera che poi potremo fare da ora in avanti ma che può aiutarci nella lode spontanea durante le nostre giornate nella quotidianità non solo nella preghiera comunitaria e per farlo dobbiamo necessariamente immergerci nella prima lettera ai corinzi che dal capitolo 12 al capitolo 14 ci parla di doni e di carismi doni e carismi che non sappiamo a volte nemmeno esistano e a cosa servono nella nostra vita come quello che vi ho appena raccontato ma se ci sono e ci vengono dati sicuramente è per un buon motivo ecco che noi abbiamo la pienezza dello spirito santo e la pienezza dei carismi a causa del battesimo e della confermazione con il sigillo crismale naturalmente questi carismi è necessario utilizzarli altrimenti come la buona ferramenta tenuta in garage in tonsa non serve assolutamente a nulla san paolo ci dice chiaramente che i doni dello spirito santo sono dati per l'edificazione del corpo di cristo per la chiesa per il bene di tutti ed elenca così una serie di carismi dicendo che uno solo è lo spirito e che questi carismi possono essere suddivisi in tre grandi categorie allora ci sono i carismi delle opere che sono i doni di forza o di potere fede guarigione miracoli e questi provengono dal padre i carismi della parola o di ispirazione quindi la profezia le lingue e l'interpretazione delle lingue che provengono dalla persona del signore gesù e poi ci sono i carismi della conoscenza o della rivelazione che sono parole di sapienza parole di conoscenza e di discernimento degli spiriti che provengono dalla persona dello spirito santo e oggi vogliamo approfondire ed esercitarci nel dono che san paolo definisce il più piccolo tra i carismi che lo spirito santo elargisce quello delle lingue dono che risveglia le grazie che ci sono in noi ma che sono magari assopite san paolo ci dice riguardo ai doni dello spirito fratelli non voglio che restiate nell'ignoranza il signore dunque vuole renderci dotti non vuole lasciarci nell'ignoranza e se ci rifiutiamo di conoscere avendone la possibilità in realtà stiamo rifiutando la verità e cadiamo nel peccato perché non possiamo negare i doni dello spirito santo lo spirito santo ci conosce bene e ci può guarire ci può liberare può fare miracoli usando noi come mezzi di guarigione e liberazione se noi ci lasciamo usare vediamo insieme che cos'è il dono delle lingue il dono delle lingue è un linguaggio divino che lo spirito santo mette nella nostra voce se noi prestiamo questo strumento il dono delle lingue è un dialogo intimo d'amore fra noi e dio un canto di lode che si innalza all'altissimo una preghiera di intercessione quando non sappiamo cosa chiedere che parole usare è una potente preghiera di liberazione una preghiera per ottenere miracoli noi non comprendiamo ma dio ascolta e agisce la preghiera in lingue è capita da dio come quando un bambino piccolo pronuncia le prime parole e le capisce solo la mamma e a volte il papà le preghiere in lingue però a volte sono una vera e propria lingua sconosciuta a chi la parla ma riconosciuta da chi è dato il dono dell'interpretazione questo è stato il caso della pentecoste per esempio quando ricevettero lo spirito gli apostoli cominciarono a parlare in lingue mentre tutto il popolo comprendeva nella propria ognuno nella propria pur essendo provenienti da diverse parti del mondo in un incontro di preghiera a in cui ho partecipato ironi spuldaro ha raccontato che in un aeroporto in corea stava aspettando il suo traduttore aveva poco tempo e una famiglia lo ha aspettato apposta per chiedergli preghiera lui non conoscendo la lingua e non capendo cosa gli stessero dicendo ha iniziato a pregare in lingue le figlie di questa coppia iniziarono a discutere animatamente fra loro e lui pensava di aver combinato qualcosa di sbagliato tanto che poi stava cercando il suo traduttore con gli occhi e quando finalmente lo ha trovato gli ha chiesto di domandare che cosa stava succedendo il traduttore si è avvicinato si è seduto vicino alle bambine e ha iniziato a piangere di commozione sapete cosa è successo la famiglia si è avvicinata per chiedere preghiera di guarigione perché i genitori entrambi erano malati di tumore e le due bambine hanno iniziato a discutere fra loro perché una diceva che la preghiera pronunciata da eroni era il padre nostro e l'altra asseriva che invece era salve regina capite dunque pur che eroni avesse pregato con parole a lui sconosciute le bambine avevano inteso nella propria lingua ma addirittura due cose diverse dopo qualche tempo è arrivata la notizia della guarigione completa dei due genitori così opera lo spirito santo ci usa a nostra insaputa e questo è bello è bellissimo ora che abbiamo scoperto che esiste questo dono delle lingue questo dono prezioso andiamo a vedere i diversi modi in cui possiamo usarlo può accadere per esempio che durante un incontro di preghiera comunitario mentre si esprime la preghiera in lingua queste siano parole profetiche un amico sacerdote che era in pellegrinaggio con noi mi ha detto che in questi casi possono succedere tre cose questo lo so perché è accaduto anche noi a meggiugorio una persona durante la preghiera si è messa a parlare in lingua e io non sapendo cosa fare sapendo nella teoria ma non avendo mai avuto la pratica ho chiesto aiuto a chi invece sapeva ecco che lui mi ha rivelato che potrebbe appunto esserci presente una persona a cui rivela la traduzione di quel messaggio e questa persona sta esercitando il carisma dell'interpretazione delle lingue può però succedere che la preghiera rimanga un dialogo fra l'anima e dio quello che è successo a noi perché da noi non c'è stato l'interprete oppure che questa parola profetica sia rivelata in un secondo momento un altro modo di usare il dono delle lingue è la preghiera in lingua nello spirito santo anche a livello personale e non comunitario in nella prima lettera ai corinzi san paolo dice chi parla in lingue parla dio ed edifica se stesso in sostanza il dono delle lingue o del pregare in lingue è un dono che ci aiuta a crescere nella preghiera in modo da poter lodare e adorare il dio liberamente senza limitazione dell'uso delle parole è molto utile questo anche per coloro che hanno la mente spesso occupata o confusa questa preghiera nello spirito supera la nostra mente il nostro intelletto i nostri limiti permettendo alla nostra anima di essere profondamente unita allo spirito santo e così lo spirito santo prega dentro di noi sono molti i santi che hanno usato questo dono nella loro vita una delle tante era santa teresa d'avila questo è dunque un dono di preghiera meraviglioso ed è particolarmente utile nell'intercessione quando chiediamo per esempio di pregare per una necessità per particolare per una grazia da ottenere ma in realtà non sappiamo cosa chiedere qual è la cosa migliore da domandare al signore vi siete mai trovati in una situazione così io sì spesso ebbene nella lettera ai romani san paolo dice che lo spirito viene ad aiutarci nella nostra debolezza quindi quando non riusciamo a scegliere le parole per pregare correttamente lo spirito santo stesso esprime la nostra supplica la nostra preghiera in modi che non potrebbero essere mai espressi a parole e dio che conosce ogni cosa nel nostro cuore sa perfettamente cosa intendiamo dire quello di cui abbiamo bisogno questo è molto incoraggiante perché pregare nello spirito ci permette di pregare in linea con la volontà di dio e possiamo farlo in ogni momento della giornata in qualsiasi cosa che stiamo facendo fosse anche in quei momenti in cui non riusciamo a pregare perché siamo arrabbiati delusi frustrati ammalati nella lettera agli efesini san paolo dice pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere di suppliche nello spirito il dono delle lingue è un dono contemplativo perché ci permette di pregare nel profondo non so se sapete che la preghiera più potente quella che smuove il cuore di dio è la preghiera di lode ecco questo dono è il carisma della lode e lo possiamo usare anche in silenzio dentro di noi quando non è possibile farlo a voce alta questa è la modalità personale diciamo così ma quando ci troviamo in un momento di preghiera di adorazione comunitaria possiamo usare questo dono tutti e allo stesso tempo come arriviamo dunque alla terza forma di questo carisma il canto in lingue che deve essere un canto armonioso guidato direttamente dallo spirito santo questa è una forma di pura lode e di adorazione perché lo spirito santo sta pregando in noi esso non ha bisogno di interpretazione perché il canto è un'armonia d'amore rivolta a dio e quando cantiamo in lingue noi lo diamo chiediamo di essere strumenti di intercessione di grazie di guarigioni liberazioni veri e propri miracoli e può accadere che in mezzo al canto qualcuno possa avere una parola di conoscenza una parola profetica una parola di guarigione che metterà a disposizione poi della comunità e in questo caso possono accadere dei veri e propri miracoli che sono guarigioni istantanee oppure delle guarigioni guarigioni che potranno innescarsi nel tempo si svilupperanno nel tempo con liberazioni spirituali con guarigioni del corpo sempre con i tempi di dio queste possono essere a favore dei singoli individui oppure anche del gruppo perché quando adoriamo o preghiamo insieme in questo modo quando cantiamo in lingue c'è una grande unità di spirito nella potenza dello stesso spirito santo e ci viene insegnato che dio è ordine quindi quando lo spirito santo è all'opera c'è sempre ordine mai disordine mai confusione se c'è confusione quella preghiera non viene dallo spirito santo quando c'è delirio quella preghiera non viene dallo spirito santo quando c'è fanatismo non c'è l'azione dello spirito santo questo è importante saperlo e comprenderlo perché ci sono tanti gruppi ma non tutti i gruppi sono uguali e portano all'elevazione dello spirito di dio al signore quindi chiediamo sempre il discernimento perché basta una guida del gruppo sbagliata e invece di crescere entriamo in una sorta di fanatismo che non porta a nulla di buono non porta a dio ora torniamo all'insegnamento che ci dona san paolo che ci dice che come ogni dono anche il parlare in lingue deve essere desiderato ed esercitato spesso i doni ricevuti non possono essere messi in un cassetto altrimenti arrugginiscono e i frutti di quei doni non potranno mai arrivare da piccoli ci hanno insegnato a leggere a scrivere ma se noi non avessimo esercitato la scrittura e la lettura avremmo sicuramente perduto ogni beneficio di quell'insegnamento è un dono semplice effettivamente strano di cui tanti hanno timore perché non capiscono cosa sia cosa serva e soprattutto che cosa si ottiene con questo dono se capissimo davvero che il dono delle lingue e soprattutto un dono di lode ed un grande aiuto per la nostra preghiera personale io sono sicura che tutti desidereremmo questo dono la difficoltà più grande che può bloccarci dall'usare questo dono è il fatto che ci si può sentire strani o stupidi come era capitato a me ad emettere suoni strani di cui non si capisce il significato o sempre per mia esperienza che non si capisca come fosse possibile cantare lingue a comando pensate che a un certo punto ho anche pensato che fosse una cosa finta perché andavo in questi incontri di preghiera e la persona che guidava diceva adesso cantiamo in lingue diceva ma caspita ma come è possibile si schiocca le dita e si canta in lingue ma qui ci viene in aiuto un altro dono il dominio di sé perché come abbiamo il controllo del nostro linguaggio naturale come io sto parlando a voi adesso sto decidendo quello che voglio dirvi così abbiamo il controllo del parlare o del pregare in lingue quindi non accadrà mai che ci mettiamo a parlare pregare o cantare in lingue senza volontà di farlo a meno che non sia dio a volerlo perché noi sappiamo benissimo che ci sono delle situazioni dove lo spirito santo spinge a un certo punto affinché noi diciamo una certa cosa a una certa persona penso che possa succedere anche in questi casi con il canto in lingue però normalmente in situazioni diciamo naturali il canto in lingue è un dono che ha il controllo subisce il controllo della nostra volontà per chi non ha mai fatto questa esperienza o non riesce a farla è necessario superare le resistenze naturali siccome tendiamo ad avere un certo autocontrollo sulle cose che facciamo potremo aver bisogno di darci semplicemente il permesso di arrenderci allo spirito santo di permettergli di usare la nostra voce di fare emettere dei suoni che a noi potrebbero sembrare un po una follia è solo una questione di rompere il ghiaccio quindi credo che la cosa migliore sia ora passare a una parte pratica cosa ci occorre per ottenere questo carisma dallo spirito santo dobbiamo prima essere battezzati nello spirito santo perché chi è battezzato nello spirito santo ottiene intimità con la terza persona della trinità certo non sarà facile farlo ora perché io sono da sola con questa registrazione ma proprio per questo chiedo un abbondante effusione di spirito santo su di me e su di voi che ascolterete tutte le registrazioni all'infinito affinché agisca in ognuno di noi che ascolterà la preghiera e pregherà con me premetto una cosa importante per fare questa preghiera ci vuole fede non è magia dobbiamo credere che davvero nel momento in cui vivremo sarà lo spirito santo ad agire in noi pregare in noi lodare in noi e che ci renderà strumenti di intercessione gli uni per gli altri non abbiate paura di sentirvi stonati perché se lo spirito canta in voi nessuno si permetterà di dirgli che è stonato iniziamo allora con una preghiera e poi io vi guiderò nel cantare in lingue chi riceve il battesimo e spirito santo ottiene tutti i carismi ora diciamo insieme chi vuole ricevere questo carisma che vuole ricevere il battesimo nello spirito santo dica ora io e il proprio nome io maria grazia facciamo ora in canto che ci aiuta ad invocare su di noi lo spirito santo di dio e ci possa inondare di tutti i suoi carismi spirito di dio scendi su di me spirito di dio scendi su di me fondi mi fondi mi fondi mi plasma mi fondi mi riempi mi usa mi spirito Spirito di Dio, scendi su di me, Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di loro. Spirito di Dio, scendi su di loro. Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Spirito di Dio, scendi su di loro. Ora vi invito a chiudere gli occhi, a mettere una mano sul cuore e l'altra col palmo rivolto verso l'alto, attendendo le grazie del Signore. Con molta calma, senza fretta, ripetete dopo di me. Signore Gesù, così come nella Pentecoste, effondi su di noi il battesimo nello Spirito, con tutti i carismi. e fondi in noi, Signore, i carismi dei miracoli, della profezia, di pregare in lingue, dell'interpretazione delle lingue, della sapienza, di guarire i malati, di risuscitare i morti, di liberare i prigionieri, di essere liberi da ogni peccato, di vivere il cielo su questa terra. Vieni, Spirito Santo, soffia su di noi, effondi su di noi la varietà di lingue di fuoco, come una nuova Pentecoste, che oggi in me, si aprano tutti i carismi. Vieni, Spirito Santo, Vieni, Spirito Santo, Donaci il dono della scienza. Rivelaci quello che Gesù sta compiendo in mezzo a noi, come nella Chiesa Primitiva. Vogliamo ascoltarti. Parla, Signore. La Tua Chiesa ti ascolta. Ora mettiamo tutte e due le mani con il palmo verso l'alto. Aprite semplicemente la bocca. Senza vergogna, scegliete una vocale, una delle cinque, quella che più vi sentite spontaneamente, e fate uscire il vostro fiato. Così, per esempio. E dategli una melodia, quella che volete, quella che vi sentite. Qualsiasi cosa che io dirò adesso, voi continuate a vocalizzare, continuate, fino alla fine della preghiera. Scegliete una vocale, fate uscire il fiato senza pensare. Continuate. Mescolate anche le vocali, se volete, e inserite poi anche una consonante, se vi piace. Non avete paura, non abbiate paura, non vergognatevi. Quando e se volete, iniziate a dare armonia. Seguite la melodia che lo Spirito Santo possa ispirarvi. Continuate, continuate a cantare. Continuate a cantare, perché tutti abbiamo questi doni. Lo Spirito Santo non ci lascia con le mani vuote. Dobbiamo solo aprirci a questi doni, come un bambino alla mamma. Vieni, Spirito Santo. Scendi su di noi, scendi su questi fratelli, scendi su queste sorelle che stanno pregando. Per chi non ha mai cantato in lingua, ripeta con me. Gli altri continuino a cantare. Spirito Santo, io mi apro ora alla grazia del battesimo. Donami adesso il risveglio per la preghiera in lingue, per la profezia in lingue, per tutti i carismi. Io credo in te, Spirito Santo. Io credo in te, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Riempili, 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 riempili. Dona loro la grazia dell'amore, della pace, della gioia. Dona loro guarigione del corpo, guarigione dello spirito, liberazione, Signore. Lega, Signore, ogni spirito che può dare fastidio a questa preghiera. Legali perché siano sottomessi alla maestà della regina, della semprevergine Maria, della dolce mamma del cielo. Ora, Signore, vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua amatissima sposa. Profetizza, vieni, Spirito Santo. Donaci parole di guarigione, di liberazione. Fa che noi siamo strumenti di intercessione per questi nostri fratelli e nostri sorelle che stanno pregando con me in questo momento e che pregheranno e canteranno in lingua per tutto il tempo delle registrazioni che ascolteranno. Grazie, Spirito Santo. Grazie per aver agito in noi. Grazie per aver pregato in noi, per aver cantato in noi. Lode, gloria, benedizione e adorazione a te, Signore. Signore Gesù, noi ti benediciamo, ti rendiamo grazie per aver effuso su di noi il tuo Santo Spirito e ora chiediamo la tua santa benedizione. È il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io spero di aver fatto ai vostri cuori e alle vostre anime cosa gradita nella condivisione di questa Catechesi. Vi saluto, vi abbraccio e vi ringrazio per aver pregato insieme a me. Ogni grazia e benedizione del Cielo, vostra piccola matita del cuore.